Grazie Andrea, lo giornalista dell'EPA complimenti perché è un progetto veramente interessante, io faccio parte della giuria e vi assicuro che guardare i lavori di questi ragazzi, di come raccontano l'ambiente, le problematiche dell'ambiente, vista dalla loro prospettiva è veramente entusiasmante. Siamo in chiusura, io do la parola al Ministro e poi ci salutiamo dopo il sottolineamento. Grazie.